Ciao ragazzi, benvenuti e benvenuti sul mio canale, io sono Magrus, oggi siamo qui finalmente su FIFA 22 naturalmente vi invito come se non vi metto un commento, un bel mi piace, abbiamo la prova di FIFA attraverso EA Access di 10 ore prima naturalmente che arrivi il primo di ottobre, non ricordo male se avete acquistato la versione Ultimate 27 dovete uscire, una roba del genere vorrei più che altro scoprirlo insieme a voi per cercare di capire, partendo soprattutto dalla modalità carriera perché quello che mi intriga di più, soprattutto il fatto di poter realizzare, creare un club, non ho capito una mazza se che cosa si può fare, ho visto qualcosa, però potrebbe essere una buona cosa, vediamo e approfondiamo e poi magari poi dopo decidiamo con calma che campionato vogliamo scegliere, vogliamo fare una cosa più fatta meglio diciamo iniziamo così soprattutto per capire anche il livello di difficoltà fondamentalmente perché l'anno scorso con FIFA 21 abbiamo dovuto cambiare le slide, un casino tremendo, vabbè lasciamo aperto perché era troppo facile, per cui facciamo nuova carriera sentono i passi dei calciatori, scarica sempre più recenti pensavo l'avesse già fatto, invece non l'ho fatto mi intriga molto questo fatto di creare, perché non ho capito bene il fatto dei calciatori stavano inventati, non lo so, però potrebbe essere una cosa buona tecnico sicuramente, vuoi importare il tuo avatar? no, perché ne facciamo uno magari nuovo magari è probabile che avete realizzato una personalizzazione diversa magari più Giorgio Cristoforo vabbè, nome e cognome, direi sempre Italia, giusto per, quasi come se volessimo riprendere la vecchia carriera ah, vedi, che è la tua squadra? club reale, no, che è la tua squadra? ok, nome insiste un nome per la tua squadra sopra il nome ad un altro etico da cazzo blaze, borgo city, to make, country dunes, dunes dream destroyer, dinamo football friends, fox intermedia no, gli invincibili poi magari poi i nomi sceglieremo lo possiamo anche decidere insieme se quel nome è breve, va bene, abbrevazione pure andiamo avanti sospituisce ah, vedi, bisogna sostituire squadra che squadra? ma salita no, c'ha tre stelle, ha detto salita no scusa la rivale salita no con che squadra è arrivata non sa madonna santa bergamo calcio realità da collazio non lo so in casa colore della maglietta iniziamo a fare la voglio mettere sinceramente abbastanza quindi si possono anche personalizzare una figata pazzesca praticamente questo è un pigiama, bello sto pigiama fantastico restiamo così e l'altra bianca anche lo stemma possiamo modificare vabbè io mi entusiasmo per delle cavolate tremende obiettivamente veramente non si può personalizzare manco lo stemma siamo alla frutta, anche il bar anche il bar ah no, anche qua, già questa l'hai ho letta sta cosa stadio casa si sceglie lo stadio e poi si può anche personalizzare magari ne scegliamo uno figo e vediamo come si può personalizzare si tribune che fai in tribuna? colore dello stadio colore seggiolini ma veramente già questa per esempio è una cosa più diciamo più fatta meglio no di un pacchiato un kitsch tremendo campo campo che mi fai il campo erba oh yeah questa è questa è novità dai questa è grande questo è il bello di fifa vedi che ti fa questo fa veramente linee diagonali linee diagonale sì il bello di fifa che ti fa cambiare le reti ci fa anche cambiare le reti questa mi piace pure questa metti questa questa mi piace no quella blu è fantastica guarda qua questa è fantastica quindi possiamo anche personalizzare lo stadio atmosfera che in che senso brano goal cori dei tifosi in ingresso in campo e time o ajax vai brano goal no brano no brano no in ingresso in campo vabbè però ma meno una cosa italiana pazza inter che ne so oppure la fiorentina vabbò metto manchester una questa diciamo è una novità una cavola tremenda però è una novità assolutamente la tua rosa ah vedi questo mi interessava valutazione generale brown scorer garrido prieto ah quindi cambiano anche i nomi in base a ovvero non ha senso però penso addirittura meno di una stella ok facciamo molto giovane giovane equilibrata esperta veterana molto giovane facciamo giovane vai farina zagreda moretti lunghe palmieri poi ah quindi in base a quel tipo di che andiamo a scegliere poi ci chiamo budget trasferire qua possiamo scendere anche il budget trasferimento possiamo partire proprio da pezze 5 milioni proprio da pezzentoni proprio vabbè facciamo uno aspettative dirigente top club piccolo club crescita giovani risultati in patria passivo pesante personalizzazione questa è pure una cosa che passiva pesante facciamo crescita giovane lasciamoci sul banale impostazione carriera vabbè qua mettiamo estrema 4 minuti euro va bene competizione attiva allora io sinceramente vi dico la verità io non l'anno scorso ho fatto per due anni rigido e rigido secondo me non è reale perché non viene mai nessuno si perde un sacco di tempo offerte di lavoro nazionale attiva lasciamo finesse di mercato attivo lasciamo lasciamo tutto così mi sono sempre con rigido mi sono sempre trovato male cioè due anni volevo cambiare poi alla fine non abbiamo più cambiato perché secondo me rigido è troppo rigido secondo me ma proprio eccessivamente rigido secondo me perché alla fine non riesci mai a prendere nessuno da un certo punto l'anno scorso non veniva più nessuno tutti rifiutavano ah mi metti una cosa scritta mi dici anche il nome questo è il figlio di Enrico Sacchi è Enrico Sacchi Junior certo che serietà Enrico Gianchi Junior con la maglietta lasciamo perdere ufficio sembra tutto uguale comunque la personalizzazione era proprio uguale abbiamo scelto quello dirigenza vivaio allora rosa lucidità forma fisica e morale qua penso che sia più o meno sempre la stessa roba i piani di gioco sono impostazioni per le fine dei pericoli i modi un tec di istruzione che puoi modificare più o meno che puoi passare da un piano all'altro va bene questo si penso sia tutto uguale allora fatti sconosciuti se stanza poli non penso sia poli il poli punti poli ancora un altro poli d'angelo nino d'angelo barbite angelis sto che mimici bella sto fatto però che in pratica io non mi aspettavo questo questo mi ricorda qualcosa questo vabbè ci facciamo la prima partita allenamenti penso sempre lo stesso cioè bisogna partire allenamenti 89 ma magari bisogna per forza fare se no mi prendo ok bisogna per forza farlo se no prendiamo punti brutti vabbè fa niente ci facciamo la prima partita così anche amiche non amichevole così ci rendiamo anche conto di che cosa giocatore qua tutto qua siamo messi a nome di tutta la squadra e do il benvenuto c'è parecchio da fare insultiamo già subito poi magari decidiamo che cosa fare Udinese ah guarda un po' team FC andiamo a sfidare questa squadra qua anche che squadra dove ci vogliamo mettere con questa squadra nuova io direi di non cambiare niente e giochiamo così oggi per lui debutto sulla panchina di questa squadra vedremo quale sarà il suo impatto ah parliamo anche in campo generalmente non era così e no e no avete sbagliato a montare le reti e il campo a righe babbo incominciamo in periodo dovremmo essere molto più forti cioè perché io non credo che chi ha detto mi sono confuso che grande in periodo dovremmo essere tanto schiarsi bella sta palla occhio ma chi invincible dobbiamo anche scegliere il nome perché non mi piace Moretti vai vai bello ce la fai è nostra noto un po' di pesantezza nei calciatori però questo di solito è quello che succede sempre fatti vedere pensavo forse dentro adesso come ho alzato la palla fammi vedere c'era veramente fuori vabbè ci sono i fischi meno male meno male che si entra un buco tremendo mi fa piacere non ho capito se ho fatto la tribuna che non ce l'ha cambiato ma è notato che i nostri calciatori sono bassissimi te l'altro te l'altro te l'altro eh ci abbiamo un esterno che un esterno doppio passo e bomba chissà se hanno aggiustato il fatto del primo palo del portiere lo scopriremo se lo vivendo praticamente ma battete sempre lo stesso modo guarda questo come controlla giustamente siamo una squadra da mezza qui là qui là qui là ecco madonna che hanno fatto che azioni che hanno fatto ci hanno proprio che tocchi ma noi non molliamo siamo abituati a giocare a rischiarsi sappiamo anche come fare e vai però mamma mia i film però giochiamo tanto ma creiamo pochissimo eccolo qua e se andavi prima te la davo moretti oh mannaccia capisce tutto e facciata bene il passaggio sto cercando di però stiamo perdendo ah praticamente capito abbiamo tolto che il portiere non prende la palla al primo palo ma poi da 20 metri segnano ma speriamo di no perché se io spero che non abbiamo sì te la do che te la do stai sulla faccia a tutti alzano eh no non è buona io pensavo che lui andasse occhio vediamo di non fare nessuna imbarchata ahia esci 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 vabbè però qua problema nostro secondo me guarda lì ma usciremo a fare un gol no tecnicamente c'è differenza dove va questo e va madonna praticamente ormai butti la palla in aria la prendono probabilmente sempre il portiere come al solito bella figura eh vabbè eh lo so ma prima parte di gala di gala ci scatteremo riprenderemo al secondo tempo vogliamo di cambiare qualcosa vediamo vediamo se abbiamo la possibilità di cambiare qualcosa eh tipo per esempio un attaccante c'ho poli che un 53 forse non mi sembra il caso giocano i migliori già giocano pensate i migliori già giocano dai uno glielo dobbiamo fare dai vale sette volte mani arbitro chissà se andiamo impostato anche il fallo di mane non l'ho preso a marcare oh ottimo intervento in copertura fallo la teola no dai eh vabbè vabbè tre volte ha tirato vada lì preso preso boom che deve essere contento ma un tiro in porta l'abbiamo fatto no penso proprio ancora non abbiamo capito come si tira in porta ma noi non ci abbiamo attaccanti no un tiro in porta l'ho fatto oh abbiamo fatto un croz in me vada questo come stupa bello che stacco che abbiamo fatto si parla di lui come di un possibile obiettivo di mercato almeno questo è quello che emerge dalle indiscrezioni eh ok ma oh questo è stato un passaggio rischiosissimo oh ma al livello di velocità c'è un abisso eh esci esci vabbè quasi sarà da diciamo che almeno se un giocatore fa un tiro del genere è anche giustificato che il portiere non la prenda bambini prendete nota è così che si calcia forte preciso non la fare per con ieri beh c'è senso unico forza chiedimi della miseria 5-0 abbiamo fatto proprio le figurelle sì dovevi andare non ti dovevi fermare è mia loro fanno anche i gambi hanno i giocatori per fare i gambi ok io non penso al cross uh è buono moretti e vai però è buono è buono eh stai pure qua si vedeva che stai in fuori gioco passiamo passiamo ma non concludiamo serve solo a semplificare il compito la difesa certo sarebbe un'impresa tremenda allora ma come si è buttato il portiere da una santa vabbè a difesa siamo imbarazzanti che c'è vada lì ma allora attaccano in una maniera inverosimile cioè nel senso non è pesante è proprio una figura di non è una bella figura quella che abbiamo ma va ok ok non dica stai ma ok mani niente manco il cross riusciamo a fare ai mostra meno male meno male quello che ho notato è che fa passare porca miseria ce ne passa che ce ne passa vai tutti in avanti vai vai e arbitro questo ve lo spingono non vorrei essere offensivo ma ok ce la potrei dare ma wow e dà e facci fanno dire per lo mi portiere 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 vabbè ma va veramente per sficace ok eppure guardate avete visto abbiamo vale 100 basso partiamo vabbè questa per me è una partita di prova per renderci conto di tante cose capire com'è la dinamica capire che tipo di squadra possiamo scegliere se forse mezza stella forse è un po' troppo poco dobbiamo capire tante cose vabbè tra l'altro poi si possono anche sicuramente mandare anche lo staff questo è il vivaio già c'è qualcuno che possiamo prendere mazza ma però già ci fa partire pure già con qualcuno assolutamente e naturalmente anche qua posso mandare qualche osservatore abbiamo già Fabio Martinelli che già madonna scarsissimo Fabio Martinelli questo non ce la possiamo permettere diciamo che sarebbe una bella sfida eppure partendo perché siamo parecchio scarsi così quindi potrebbe essere un'idea quella di partire così vedete tutti i commenti che cosa ne pensate ci vediamo se va a prossimo video vai ciao